Buongiorno e benvenuti nel mio canale, breve tutorial per mostrarvi una funzionalità interessante che è stata aggiunta con l'ultimo aggiornamento di Whatsapp. Per il momento credo sia solo su Whatsapp Beta, poi magari per iscrivervi a Whatsapp Beta, per avere le novità prima degli altri, magari vi lascio un link nel post posizionato sotto il player di questo video. Se avete già Whatsapp Beta, andate qui, cercate Whatsapp, questo è Whatsapp, se vedete che c'è aggiorna dovete aggiornare. Se ancora non avete Whatsapp Beta dovete aspettare magari il prossimo aggiornamento per utilizzare questa funzionalità che adesso vi vado a mostrare. Dunque, aprite una qualsiasi chat e inviate un vocale. Questo è un messaggio vocale di test che sto realizzando per mostrare la nuova funzionalità che ci permette di regolare la velocità di riproduzione dei vocali in modo da eventualmente ascoltare un vocale a velocità magari doppia senza dover perdere ulteriore tempo nell'ascoltarlo tutto. Questo è il vocale che è stato inviato e adesso chi lo legge, cioè chi lo ascolta, questo vocale, potrà impostarne la velocità di riproduzione. Questo è un messaggio vocale di test che sto realizzando per mostrare la nuova funzionalità che ci permette di regolare la velocità di riproduzione dei vocali in modo da eventualmente ascoltare un vocale a velocità magari doppia senza dover perdere ulteriore tempo nell'ascoltarlo tutto. Secondo me è una cosa interessante per poter ascoltare dei vocali in maniera molto più veloce rispetto a prima. Interessante anche il fatto che quando si velocizza il vocale viene automaticamente regolato il tono della voce per lasciarlo invariato. In sostanza viene regolato quello che si chiama il pitch per non far diventare una voce troppo acuta. Questo è un messaggio vocale di test che sto realizzando per mostrare la nuova funzionalità principalmente di regolare la velocità di riproduzione dei vocali in modo da eventualmente ascoltare un vocale a velocità magari doppia per poterlo valutare senza dover perdere ulteriore tempo nell'ascoltarlo tutto. Rimane lo stesso. Mi pare di aver detto le cose principali di questa funzionalità che secondo me è carina, che può essere utile per risparmiare tempo. E questo è tutto. Alla prossima volta.